I carabinieri hanno disposto la chiusura per una settimana dello Zanzibar di Marina di Ravenna. Il provvedimento è stato notificato mercoledì mattina in base all'articolo numero 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Nell'esercizio commerciale i carabinieri avevano effettuato diversi interventi tra il mese di giugno e il mese di luglio, accertando un'intensa attività di spaccio. Due persone erano state arrestate nel corso dei controlli e otto consumatori segnalate l'autorità amministrativa come assuntori di sostanze stupefacenti. In totale erano stati sequestrati 9 grammi di cocaina, 2 di marijuana, 3 di ashes, 390 pillole di ecstasy e 30 grammi di cristalli di MDMA. I pusher approfittavano della folla nel locale e si appartavano aspettando i clienti che si avvicinavano per acquistare lo stupefacente. Terminata l'istruttoria amministrativa, il questore della provincia di Ravenna ha emesso il decreto di sospensione dell'attività di somministrazione di cibi e bevande ed attività danzanti per una settimana. Immediato però il ricorso della gestione del locale, anche perché la chiusura della struttura in questo momento significherebbe anticipare lo stop della stagione turistica. Il ricorso è stato in parte accettato, lo stabilimento potrà rimanere aperto, ma permane il divieto di somministrazione di alcolici e il divieto di organizzare serate danzanti. Grazie. Grazie. Grazie.